Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e benvenuti nel mio canale Allora, oggi ho iniziato anch'io a fare video vlogmas Allora, in pratica vi spiego cosa sono, ma penso che lo sapete già perché avete visto altri video Allora, in pratica farò ogni giorno un nuovo video per 24 giorni, cioè fino al 24 dicembre, cioè quando è Natale E quindi dovrete supportarmi per 24 giorni Quindi questo qui è il primo video, appunto, per cercare cosa sono i vlogmas Come decorazione ho preso solo questa boccetta, con il cappello natalizio e dentro i marshmallow E quindi nulla, questo qui è appunto un video corto Per farvi capire cosa erano i vlogmas Vlogmas, scusate la pronuncia in inglese, top E comunque nulla, quindi sopportarmi per 24 giorni E inizierò a fare tantissimi vlogmas, quindi nulla Noi ci vediamo domani con un prossimo video E nulla, un bacione A domani, ciao Dimenticavo, prima di concludere il video, a salutare una mia amica Che si chiama Maria Chiara Spinella Iscrivetevi al suo canale E nulla, ci vediamo domani con un prossimo video Ciao 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 Ciao